Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo incontro del ciclo della Tavola Ovale di Storia Moderna 2021. Non sto a ripetermi, ovviamente siamo in questo formato poco conviviale, in formato online e lo saremo fino a giugno di quest'anno. Poi, a Dio piacendo, speriamo dall'autunno prossimo di riprendere nella forma più consona anche alla modalità di questi seminari che dovranno essere incontri abbastanza informali e favorire anche uno scambio un po' conviviale attorno alla Tavola Ovale. Ecco, io non mi dilungo in troppe presentazioni perché per quello per presentare Gianni c'è già Enrico. So che sarà un ciclo abbastanza ricco. Io ho condiviso nella chat anche il calendario per chi non lo avesse già ricevuto e ci porterà da Roberto per cui io sono a Cagliano al momento, per cui da qui vicino, fino a Gerusalemme nell'ultimo incontro di giugno, passando per mari del Mediterraneo e quant'altro, per cui come al solito insomma in pochi incontri riusciamo a coprire la storia del pianeta più o meno. Niente, io ti lascerei la parola Enrico, si presenti Giannantonio e poi cominciamo. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie di essere intervenuti oggi alla primo incontro del ciclo Tavola Ovale di Storia Moderna per il primo semestre del 2021. È con un grande piacere che inauguriamo questo semestre con l'amico Gian Antonio Scaglione, che è a sinistra in ricerca presso il Centro Geocartografico di Studio Documentazione, il cui acronimo è GECO, dell'Università degli Studi di Trento. È dottore di ricerca in storia della cultura, della società e del territorio in età moderna presso l'Università di Catania. È stato anche vincitore di vari programmi internazionali e di bandi competitivi e ricordo almeno due suoi libri, Le carte e la storia, cartografia tematica della città di Catania in età moderna e Malta e Valletta, città, uomini e territorio tra XVI e XVIII secolo. Mi fa piacere spendere due parole e due minuti sul centro in cui lavora Gian Antonio, il già nominato Centro Geocartografico di Studio e Documentazione Idest GECO di Rovereto, che nasce nel 2018 come gemmazione dell'Università di Trento in collaborazione con la provincia autonoma di Trento, il Comune di Rovereto, ed è diretto dalla professoressa Elena Daipra, che insegna geografia presso l'Università di Trento. Il progetto di GECO prevede l'attivazione di una collaborazione tra mondo della ricerca, amministrazioni pubbliche e privati, volto alla documentazione ma anche alla conservazione del patrimonio cartografico e finalizzato anche allo studio del patrimonio paesaggistico, in un'ottica sia di valorizzazione sia di conservazione dei paesaggi storici. Il centro che ha inaugurato i suoi lavori a Rovereto nel 2019 è a tutti gli effetti un ente universitario di ricerca e noi siamo contenti quindi di iniziare questo dialogo tra il nostro istituto storico italo-germanico e il centro di documentazione cartografica di Rovereto barra UNITN. Io lascerei immediatamente la parola a Gianni Scaglione, che oggi ci parla di organizzazione dello spazio e gerarchie sociali nel mercato della Piazza delle Erbe a Rovereto tra XVIII e XIX secolo. Grazie Gianno Antonio. Grazie Enrico. Nel porgere il mio saluto a tutti i partecipanti che in questo momento ci ascoltano, per me è importante ringraziare i coordinatori di questa bellissima iniziativa, quindi ringrazio Massimo Rospoker e Enrico Valseriati per avermi inserito in questo progetto. Io passerei sin da adesso alla condivisione del mio schermo in cui è presente una presentazione di quelli che sono i risultati iniziali di un progetto un po' più ampio che vuole indagare la geografia delle fiere e dei mercati nella Val Dadice in età moderna. È uno dei progetti che il GECO ha avviato da tempo e noi abbiamo cominciato, e questi sono i primi risultati, abbiamo cominciato con la città di Rovereto proprio perché è uno di quegli aspetti che ci legava soprattutto alla nostra nuova sede che si trova ospitata presso il Palazzo Alberti Poia. Tra i primi punti interrogativi che ha mosso questa ricerca vi è sicuramente il fatto che già in età moderna la città di Rovereto si distingueva, particolarmente le tracce, sono numerosi gli studi dedicati a questo argomento come un centro economico molto vivace, addirittura nella seconda metà del Seicento abbiamo delle indicazioni, quelle di Michelangelo Mariani che nella sua relazione pone questa città addirittura come seconda soltanto alla città di Bolzano, seconda dal punto di vista mercantile e qui per noi è stato importante cominciare a porci delle domande a cui trovare delle risposte e abbiamo cercato in un certo modo di dare una risposta analizzando un aspetto della geografia storica urbana della città, quella del mercato dei commestibili. Il mercato urbano dove la popolazione di questa piccola cittadina quotidianamente riusciva a trovare e a procurarsi i viveri, una città che veniva definita già molto popolosa nella seconda metà del Seicento. Uno dei primi documenti che ci ha aperto e ci ha spianato la strada verso questo tema è stato quello ritrovato all'archivio comunale archivio storico comunale di Rovereto in cui troviamo uno scambio di idee e poi delle richieste sempre più perentorie in cui si deve trovare un nuovo spazio per il mercato dei commestibili. Allora i provveditori vengono attivati dalle autorità austriache, dalle autorità superiori affinché vi sia dedicato più spazio. Questo è il primo dato importante che ci viene fornito. Una deduzione chiaramente scritta di esigenze di spazio ma anche di più sicurezza. Evidentemente siamo negli anni e molti documenti ce lo riconfermano sempre nella seconda metà del Settecento in cui la pratica commerciale all'interno della città comincia a diventare qualcosa di meno consitudinario e molto più strutturato, tant'è che questo scambio epistolare, questo scambio di richieste ufficiali, questa documentazione amministrativa ci dice come se non intervengono in maniera decisa le autorità locali, allora in un determinato periodo con una scadenza ben chiara saranno le autorità superiori a prendere provvedimenti affinché ci sia un'inversione di tendenza rispetto a quello che era allora lo stato delle circostanze. Il progetto arriva, arriva negli anni Settanta del Settecento, i provveditori della città cambiano quello che era, abbiamo dedotto essere lo spazio piccolo che necessitava spazio e quello poco sicuro che era la piazza delle erbe, una piazza delle erbe che negli anni Settanta viene un po' riformata perché gli spazi del commercio attraverso documentazioni ritrovate percepiamo e capiamo essere stati altri, per esempio la piazza delle erbe ossia dei commestibili essendo troppo stretta e non più ritenuta adeguata anche perché le richieste sono pressanti da parte delle autorità superiori, allora il mercato viene scomposto in più parti, vi è una specie di dislocazione, una decentrazione in una parte dove non batte in maniera diretta il sole, viene destinata alla vendita della carne, del buttino, del burro e di tanti altri alimenti che in questa circostanza giovava e sono altri spazi ad essere interessati allo spazio del commercio, vengono definiti lo spiazzo davanti alla chiesa di San Marco e poi un altro tratto di strada. Quindi in questa fase, nella seconda metà del Settecento, ci ritroviamo di fronte al nostro oggetto di interesse, questo spazio urbano, la piazza dei viveri, la piazza delle erbe, ma ci ritroviamo di fronte ad una riforma, una scelta che si fa, una scelta che per via di un una serie di documentazioni, crediamo essere stata adeguata, se alla fine del Settecento i consiglieri del circolo di Rovereto stimolano il nostro interesse perché chiedono all'autorità centrale che i mercanti, i commercianti che animano le fiere e che portano le provvigioni dal territorio tedesco alla città di Rovereto vengano sollecitati da queste autorità, perché evidentemente quello di Rovereto doveva essere, deduciamo noi, un mercato abbastanza attivo e che soprattutto come scrivono gli stessi richiedenti è uno spazio in cui vi è uno smercio pronto, vi è la sicurezza di un commercio, quindi che venissero invitati o come scrivono loro eccitati, liferanti e provvigionieri perché possano ricarsi a Rovereto e vendere, fare negozio delle loro merci. Un discreto vuoto archivistico in parte non ci dice come sono andate benissimo le cose alla fine del Settecento, fatto sta che la documentazione a noi pervenuta ci permette di collocare nuovamente lo spazio del mercato urbano al centro della città all'inizio dell'Ottocento, mentre evidentemente questo progetto di decentrare dinanzi alla chiesa di San Marco o in altre strade del centro urbano non è andato a buon fine, purtroppo la documentazione non ci aiuta per comprendere meglio, ma il dato di fatto è che all'inizio dell'Ottocento, esattamente nel 1811, lo spazio destinato al commercio dei commestibili diventa di nuovo la piazza delle erbe e lo diventa in maniera ufficiale perché comincia ad essere disciplinata, comincia ad essere amministrata, comincia ad essere oggetto di interesse dell'amministrazione, ma di un interesse capillare, preciso, addirittura vengono date tutta una serie di indicazioni per cui come accedere ai posti, quanto si doveva pagare, quali erano i percorsi, un processo che viene dettagliatamente raccontato in numerosi documenti ancora oggi chiari nel loro intendo. All'interno di questo spazio la vendita dei prodotti era divisa in base alla qualità, già allora vi era una ferrea ripartizione delle parti della piazza destinate alla vendita di determinati prodotti, questi non dovevano essere mischiati, ed è anche molto chiara questa documentazione perché spesso queste informazioni trovano una traduzione cartografica, una traduzione cartografica con cui vengono segnati quelli che sono gli spazi dove andare a porre i banchetti dei commercianti che vendono determinati prodotti e così facendo noi possiamo un po' capire come questa piazza subisce una divisione dal punto di vista della vendita, dal punto di vista dell'amministrazione del prodotto commestibile. Una indicazione che in questo dettaglio mostreremo un pochettino più nel dettaglio, spazi urbani che ancora oggi sono stati conservati, siamo nel centro storico di Rovereto e ancora oggi non sono stati stravolti da vicende varie e sono ancora presenti gli stessi palazzi che all'inizio dell'Ottocento erano perimetro di questa geografia urbana. Vediamo che ci sono delle aree dedicate in maniera più ampia, vediamo che ci sono delle piccole aree vicino alla fontana centrale in cui l'approccio idrico per lavare e ripulire era sicuramente più importante, per esempio questi sono i banchi della vendita del pesce e cercando di dare una lettura più chiara, cercando anche di attraverso la cartografia tematica e attraverso le variabili grafiche e di colore, dare una lettura più immediata a queste informazioni e alle traduzioni cartografiche annesse all'interno di questa documentazione abbiamo ridotto quelle che sono le notizie all'interno di una divisione. Bene, al centro di questo spazio come abbiamo potuto vedere nel precedente dettaglio che velocemente rimostro abbiamo una struttura, una struttura portante con una copertura e con numerose arcate separate da pilastri che sorreggono questa ampia copertura. Per il resto è tutto spazio libero e questi rettangoli e questi quadrati sono delle aree in cui venivano posti i banchetti per la vendita di determinati prodotti, la vendita degli erbaggi, la vendita del buttiro, la vendita del pesce, poine, uova, pollame e quant'altro. Lo spazio centrale che sarà più avanti oggetto di nostro interesse è quello deputato alla vendita della mala carne, una carne che si distingue a Rovereto dalla carne fina, la carne possiamo definire di prima scelta. La mala carne non entro nello specifico volutamente ma sono i tagli secondari e poi sono anche tutta una serie di oggi potremmo definire molte frattaglie, insomma anche questo tipo di carne ha costituito un alimento fondamentale per il sostenimento delle società del passato e ancora ora, anzi sono state in molti casi rivalutate, sono oggetto di interesse. In questa piazza veniva venduto quindi di tutto, dai formaggi alla carne, alla frutta, alle erbe tra virgolette. Un aspetto interessante, il primo, quello che riusciamo a tirare fuori da questa documentazione sono per esempio le modalità di accesso a questo posto. Erano messi all'asta, erano messi all'asta pubblica, chiunque poteva partecipare, naturalmente c'era un prezzo che l'autorità locale definiva e poi con tutta una serie di rilanci potevano essere accaparrate da queste persone e di conseguenza chiunque poteva diventare, avendo la capacità economica e avendo anche le garanzie, le assicurazioni, poteva diventare titolare di un posto che erano delle affittanze annuali. Cercando di sintetizzare tutti questi dati all'interno di alcune tabelle abbiamo tirato alcune prime deduzioni logiche, alcune suggestioni che ci permettono anche di vedere qual era il sistema amministrativo, ma anche quello che è di controfattuale di era, alcuni banchi vengono rilanciati e contesi tra più persone, mentre altri vengono direttamente affidati per il prezzo di prima battuta. Questo ci dice, ci lascia pensare, ma allora alcuni banchi erano più ambiti rispetto ad altri? Perché no? Evidentemente sì. Cerchiamo un attimino di ricostruirli, che vediamo e abbiamo messo nella banda in evidenziato in giallo, quelle che sono le variazioni di questi prezzi. Questi dati abbiamo fatto in modo di riportarli all'interno del nostro modello grafico digitale, perché così ci danno una visione più immediata di quello che nel 1811, stando a questo primo documento, sono i prezzi di questi posti. I prezzi di questi posti di partenza li troviamo qui indicati, come le chiamo il documento il prezzo di prima grida, ma vediamo quali sono invece le variazioni più importanti di questa prima grida. L'affittanza avviene per tutti i posti, mai nessuno resta libero o invenduto. Il business è presente in questo spazio urbano, la vendita è concreta, non esistono delle mancanze, lo spazio è fortemente conteso, uno spazio ricordiamo molto organizzato. E come riportiamo in questo spazio centrale qui? sono i posti che sono collocati tra la strada e lo spazio della piazza ad essere più ambiti, quelli addirittura centrali subiscono un rincaro di più del doppio, del 111%, quelli centrali del 112%, evidentemente dovevano essere dei posti molto ambiti, evidentemente lì il flusso delle persone doveva essere maggiore, evidentemente cerchiamo di capire se questa cosa è vero o è soltanto una indicazione vaga. Sono delle bancarelle in cui avviene la vendita di determinati prodotti, ulteriori aspetti sono quelli sociali legati a questa organizzazione dello spazio, per esempio andando a guardare i nomi di chi si interessa diventare titolare di un posto della piazza dei viveri, definito dalla documentazione il levatario, cioè chi sono questi levatari? Sono delle persone che diventano titolari di una concessione annuale. Andando a guardare i nomi troviamo che alcuni di questi più che comportarsi come mercanti si comportano come degli investitori. È singolare il caso di Gaspare Gerosa che detiene, partecipando all'asta pubblica e libera, detiene numerosi posti, diventa levatario di tutta una serie di questi posti, evidentemente allora questi posti possono essere riaffittati. Abbiamo quindi una pratica del subaffitto, anche qui come numerosissimi studi dimostrano la pratica del subaffitto, cito da Luca Muccarelli a Francois Chauvar, sono stati da tempo inseriti all'interno di un discorso molto più ampio sull'affitto dei beni mobili e immobili, come una delle pratiche commerciali che all'interno della città era praticata in maniera costituzionaria. Per quanto riguarda lo spazio della piazza, cosa? Se riportiamo questi primi dati all'interno del nostro modello cartografico, vediamo come effettivamente più della metà dei posti sono in mano soltanto a quattro persone, cioè quattro persone hanno quasi messo una pietra sull'affittanza annuale. Se vuoi fare il commerciante alla piazza dei viveri, devi avere a che fare con questi quattro soggetti, che diventano dei veri e propri detentori dello spazio della vendita. Appare singolare, anche qui abbiamo l'aiuto della grafica, come la maggior parte di questi spazi sta in mano a pochissime persone, ad un pugno di persone. Un altro aspetto interessantissimo di questo primo documento, che è veramente enorme, è disciplina in tutti i suoi aspetti, togliendo dalle consuetudini e riportando all'interno della norma quelle che sono tutta una serie di abitudini, ma adesso diventano invece dei regolamenti, dei regolamenti che vengono affissi alle pareti dei palazzi limitrofi a questa piazza. È bello anche questo documento perché si può apprendere quelli che erano i prodotti venduti all'inizio dell'Ottocento in una piazza di una cittadina molto vivace dal punto di vista economico, perché la città di Rovereto ancora non siamo entrati tantissimo in quelle che sono le caratteristiche della storia, ma è uno dei centri in cui la produzione serica ha creato un vero e proprio boom economico, che nel Settecento e ancora nella prima metà dell'Ottocento ha una forte valenza e i setifici rappresentano un motore economico non indifferente. Tutti i banchi sono suddivisi per prodotti. Noi continuando questa chiacchierata ci concentreremo un pochino di più su quella che era la struttura centrale posta al centro della piazza dei viveri, che qui in questo documento viene definito barchessa. La barchessa è una tipologia architettonica tipica dello stile palladiano. Vediamo come effettivamente i regolamenti cominciano da questa data in poi a diventare una normalità per questo spazio, spazio che abbiamo ritrovato all'interno anche di un aspetto che abbiamo prima introdotto, cioè se ci sono delle persone che investono per andare a comprare, per diventare levatari annuali di questi posti, evidentemente questi posti potevano essere affittati ed effettivamente la pratica del subaffitto l'abbiamo riscontrata subito nella documentazione e abbiamo visto che vi erano dei prezzi fissati. Non era un libero mercato. Qui l'autorità locale entra a dare tutta una serie di indicazioni perché non era lasciato per non creare dei particolari problemi al mercato. L'autorità locale abbiamo dedotto interviene per calmirare i prezzi, per evitare delle speculazioni nelle subaffittanze. Allora i forestieri o i venditori a ventizi, come li definisce la documentazione, possono entrare quando e come vogliono a Rovereto per vendere i propri prodotti. Lo possono fare però soltanto in uno spazio, che è quello della piazza di viveri e lo possono fare solo sui banchi, sui banchi deputati alla vendita di quel prodotto e per farlo devono avere a che fare con quel esiguo numero di persone che nella maggior parte dei casi deteneva questi banchi e con loro doveva accordarsi e definire un prezzo. Questo prezzo non poteva essere esagerato, era definito, era definito e diventava oggetto di investimento da parte di queste persone. Per esempio per vendere gli erbaggi vi erano dei tavoli ben definiti e si doveva pagare una piccola cifra, un garantano in questo caso, o per la vendita della frutta, la stessa cosa. Un aspetto che nel nostro caso ci riporta ad un qualcosa che abbiamo accennato prima è la differenza di prezzo delle arcate della barchessa, questa struttura deputata alla vendita della mala carne. Per esempio se un venditore di carne voleva accedere ad una delle arcate, poteva farlo mettendosi d'accordo con il levatario della struttura, ma l'autorità locale dà dei prezzi diversi già non sul posto, ma all'interno del posto. Per esempio le arcate che danno più verso la parte centrale hanno un prezzo maggiore rispetto a quelle centrali e ancor di più rispetto a quelle periferiche che guardano la parte est della piazza. Questo ci riporta a quello che dicevamo prima. Allora se questa struttura ha dei prezzi diversi, evidentemente la parte centrale doveva essere quella del flusso, doveva essere quella in cui lo spazio era più conteso dal punto di vista del commercio, perché evidentemente il centro del mercato era quello lì. Da un lato abbiamo questa indicazione di differenza del valore dell'arcata per la vendita quotidiana della mala carne. Dall'altro abbiamo questi incrementi che ci dicono anche come i posti 10 o 11 e 12 subiscono dei forti rincari negli anni successivi. E quindi lo spazio commerciale non è tutto uguale, ma all'interno di questa pratica riusciamo a identificare quello che doveva essere una centralità. Sinora abbiamo dato spazio ad un... abbiamo parlato di uno spazio urbano e abbiamo detto come al centro di questa piazza vi era una struttura, struttura che oggi non esiste più. Alla fine dell'Ottocento questa struttura scompare, la barchessa però è ancora presente nel rilevamento che intorno agli anni 50, noi che abbiamo scritto 1860, ma a metà degli anni 50 viene commissionato da Francesco I, questo è il Catasto Franceschino. E queste sono le due, i due fogli della città di Rovereto. La parte centrale del censimento della struttura urbana viene anche censita, questa barchessa. È una struttura che nelle foto storiche appariva così. Una struttura le cui arcate diventano strumento di commercio, la rivediamo qui in un'altra. E velocemente adesso teniamo un'altra, diamo soltanto un'altra veloce informazioni come questi spazi cominciano ad essere sempre più attenzionati. Gli spazi che della vendita vengono aperti alla vendita quotidiana e a tutte le ore, gli spazi però che cominciano a dare fastidio per passaggio di persone, per i mezzi, per i carri, la città comincia a dare un ordine maggiore rispettando la strada. Per esempio nel 21 questi posti che escono fuori dalla piazza e che invadevano la strada vengono tolti dall'affittanza e vengono soppressi sostanzialmente. Un ultimo aspetto è quello che ci riporta ad una organizzazione gerarchica sociale dello spazio. Abbiamo detto prima come la malacarne, la struttura della malacarne in cui si vendeva la carne veniva affittata singolarmente. Per quanto riguarda invece la vendita delle arcate dagli anni 24 e 25 viene scomposta. Mentre prima l'unità 21, il posto 21 era affittato ad un'unica persona, dal 1824 comincia ad essere scomposto e affittato a prezzi esorbitanti. Ogni arcata diventa un posto sostanzialmente, quindi viene ulteriormente suddivisa. Ma andate a guardare i nomi di queste persone che da un lato affittano e dall'altro si offrono come garanti per dare segurtà alla pratica e all'acquisto del posto, troviamo che i nomi sostanzialmente si ripetono. Cioè vi sono delle personalità che da un lato affittano, dall'altro si offrono come garanti e andando a guardare tutta la documentazione che dal 1824 al 1826 interessa queste aste, questi affidamenti, queste vendite, troviamo che ci sono sempre gli stessi nomi, ma sempre gli stessi nomi che sono sia i detentori del posto, quindi sono da un lato levatari e dall'altro sono i garanti e spesso si incrociano fra loro, vediamo qui che ci sono delle clientele, sicuramente delle gerarchie ben radicati, insomma sono sempre gli stessi nomi, ma sono gli stessi nomi che diventano degli assoluti protagonisti della piazza, di un particolare prodotto venduto nella piazza, la carne. Questo è un certificato di segurtà dei fratelli parolari nei confronti di alcuni affittari, di alcuni fruttivendoli. E ritornando a queste gerarchie urbane ci viene subito una prima domanda che ci fa uscire dalla piazza e ci porta di fronte ad un altro tema che è quello della vendita, del commercio dei bovini all'interno della città. Perché la barchessa a un certo punto viene scomposta e diventa un business da affittare? E perché il commercio della carne? Ci siamo resi conto che sin dall'inizio dell'Ottocento diventa un business fortissimo a Rovereto. Per quanto riguarda un'indicazione significativa all'inizio del 1802 esattamente, il numero delle fiere diventano mensili nel circondario a Rovereto e nel suo circondario. E questo è un dato molto singolare, perché in genere nelle città le fiere erano saltuarie, non erano così organizzate. Evidentemente la città di Rovereto avrà avuto bisogno di un apporto continuo di carne. C'è un altro documento che abbiamo riscontrato che questa cosa ce la conferma. Lo stesso comune media attraverso il proprio calmiere la vendita di capi di bestiame. Nel 1804 addirittura è lo stesso consiglio civico che media l'acquisto di 100 bovi da macello dalla Carinzia, perché di tal genere ne manca la pusteria. Quindi stiamo parlando di aree geografiche limitrofe in cui viene a mancare l'allevamento del bestiame e quindi ci si chiede di rivolgerci ad altre aree per l'acquisto di non qualche capo di bestiame, ma di 100 bovi da macello. Non sappiamo in quanto tempo venivano smaltiti 100 bovi macellati all'interno dello spazio urbano e sicuramente questi venivano macellati con una cadenza che non conosciamo, non abbiamo trovato dei documenti che ci narrano di questo aspetto. Però è interessante la quantità, si sta parlando di un numero particolarmente importante. Effettivamente il consiglio civico entra a spada tratta all'interno di questo settore commerciale, basta ricordare che all'inizio dell'Ottocento la carne fina è un business fortissimo, la carne fina non viene venduta in piazza come la malacarne, viene venduta in un'altra struttura, anche questa fortemente normativizzata e disciplinata. Il banco in cui veniva venduta la carne fina era dato a quattro venditori e questi pagavano un monte di soldi per poter accedere a questo privilegio, ma sono sempre quegli stessi nomi. Andando a prendere la documentazione legata al commercio della carne fine e alla vendita della carne fina troviamo sempre gli stessi Giovanni Hettel o il Giuseppe Ottavio Tranquillini, sono loro gli assoluti protagonisti di questo settore commerciale. Settore commerciale che ritroviamo, dal punto di vista dei nomi, questi protagonisti li ritroviamo anche nei privilegi dell'uso del macello. Quindi questi qua vendevano la malacarne in piazza, la carne fina nelle botteghe del comune e amministravano anche in maniera esclusiva il macello. Sono quasi, creano un cartello non indifferente. La vendita della carne fina è un business fortissimo. Dal macello emerge anche un altro aspetto, quello per esempio della produzione delle candele attraverso i derivati prodotti dalla macellazione, le famose candele da sego e anche qui sono oggetto di una privativa gestita dall'autorità locale e ad accaparrarsi questi appalti sono sempre questi stessi protagonisti della vendita della carne nello spazio urbano di Rovereto. Sempre gli stessi Oettel e Tranquillini. Gli Oettel non... Scusami Tanni, ti devo chiedere anche di andare verso la conclusione. Sì, e mi avvio la conclusione. Sono gli Oettel delle non originarie da... persone originarie da Rovereto, ma sono arrivate nei primi anni dieci e qui, questo è un altro aspetto che dobbiamo indagare più avanti. Non sono originari, provengono da Castelruth, si spostano a Rovereto per fare degli investimenti e abbiamo visto come effettivamente li fanno. Tra gli anni 20 e gli anni 30 dell'Ottocento cominciano anche ad acquistare tutta una serie di appezzamenti di terreni limitrofi tra la città di Rovereto e il piccolo centro di Sacco, non interferiscono con altri settori commerciali e notiamo come questi nomi continuano ad essere assoluti protagonisti di un settore legato ad un ambito commerciale ben preciso. Soltanto un'ultima cosa, ritornando per come abbiamo aperto sullo spazio urbano, la geografia di questo spazio urbano cambia sensibilmente a fine Ottocento quando la barchessa, questo documento dell'ufficio tecnico del comune di Rovereto di allora ce lo mostra, come la barchessa viene demolita e sostituita con una più elegante centrale fontana che ancora oggi è presente all'interno dello spazio urbano della cittadina trentina. Qui con questa immagine, mi avvio la chiusura, troviamo anche come ancora all'inizio del Novecento lo spazio è interessato dalle tipiche bancarelle che molto probabilmente anche nell'Ottocento erano costituite da questi pochi elementi, dai carretti con queste coperture che erano i banchetti della vendita nello spazio commerciale. Vi ringrazio per l'attenzione e io avrei concluso. Bene, grazie Gianni, purtroppo gli applausi sono solo a distanza e ti ringraziamo davvero per il tuo intervento. Grazie, grazie infinite. Io intanto ricordo i nostri ospiti e le nostre ospiti che possono rivolgere delle domande al relatore nella chat, poi io provvederò a girarle a Gianantano Scaglione. Abbiamo una mezz'oretta di tempo per esaudire qualche curiosità o qualche richiesta di precisazione. Vi ricordo appunto che vanno scritte nella chat le domande e io provvedo a leggerle. Intanto rompo il ghiaccio, Gianni, sollecitandoti con una piccola provocazione che non è poi tanto piccola. Volentieri. Ma vediamo se smuovo anche un po' gli animi degli amici autotoni del Trentino. Io ho dei dubbi sulla dimensione realmente urbana di Rovereto alla fine dell'età moderna, memore della lezione di Giorgio Chitolini sulle quasi città e quali caratteristiche istituzionali e sociali debbano avere per essere definite civitates e anche la stessa forma urbis di Rovereto che pure è interessantissima, a me piace molto, in realtà non è una forma urbis vera e propria e lo dimostra anche il fatto che siano sostanzialmente delle contrade che non hanno avuto un fenomeno di razionalizzazione degli spazi commerciali come le grandi città della terraferma Veneta o la stessa Trento nel Cinquecento che invece è una civitas per una serie di ragioni su cui non mi posso dilungare. È una provocazione ovviamente, tant'è che questi fenomeni di cui tu parli che sono ben presenti nella società italiana già a partire dal Quattrocento arrivano molto tardi a Rovereto addirittura negli anni settanta e settecento si inizia a razionalizzare questi spazi commerciali, che ovviamente non è una diminuzio captis, semplicemente forse ci dice che è solo lì in quel momento che Rovereto diventa una quasi città e prima invece ha le caratteristiche più della villa. Vediamo se nel frattempo arriva qualche domanda e per ora ti chiedo appunto se anche tu hai avuto questa impressione venendo da una città come Catania, insomma quasi una megalopoli dell'età moderna, se ti sei trovato di fronte a una vera e proprio città o una quasi città? No, una quasi città ovviamente, no 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 no, ma per quello che è la realtà trentina e che io mi sono permesso di studiare con il capo cosparso di cena, insomma io fino a poco tempo fa mi occupavo di città del Mediterraneo, no non credo che sia, cioè condivido appieno il tuo ragionamento, è una cittadina molto popolosa, chiamiamola così, che vive un boom quello dell'industria serica, ma anche altri importanti settori economici diventano particolarmente vitali, è una città molto popolosa, questo lo penso, però da un lato non la considero, una, cioè sono d'accordo con quello che dici tu, dall'altro però ci sono tutta una serie di segnali come per esempio una organizzazione in 24 quartieri già nel 1785, un'autorità centrale, quella amministrativa che sostanzialmente si muove in maniera molto significativa, in maniera molto incisiva, creando e disciplinando i numerosi settori, noi abbiamo fatto un piccolo affondo su quello che era il commercio della carne, però sono veramente tantissimi i settori in cui l'autorità amministrativa comincia a metterci del suo e a disciplinare attraverso una regolare pratica economica, tutte queste pratiche quotidiane, insomma. Grazie Gianni, ovviamente la mia era una provocazione, ha tutte le caratteristiche della città alla fine del Settecento. No, ma io sono d'accordo con te, sono d'accordo. Ti sollecitavo. Serena Luzzi, la nostra amica Serena, scrive Gian Antonio Grazie, mi limito qui a qualche domanda, la prima, chi sono i detentori del monopolio tra virgolette nella gestione dei banchi, qual è il loro profilo sociale e quando si parla di sicurezza si intende anche alludere a una certa quota di criminalità e prosegue, magari dopo ti rileggo alcuni punti, tra i rivenditori ritroviamo anche commercianti di madrelingua tedesca, nel Settecento rappresenta tedesca, sottointeso roverete visibile, macellazione cane, non è un caso se un immigrato tirolese e tel penso si inserisca con successo nel settore macellazione, c'è un know-how, vedi anche Trento e ecco, queste le sollecitazioni. Sì, ringrazio la professoressa Luzzi per questa domanda. Sì, allora, per quanto riguarda i detentori, i levatari, i maggiori che si occupano, le nostre indagini sono state superficiali, non abbiamo approfondito quell'aspetto, certo però ci siamo posti una domanda, se erano anche dei protagonisti o erano presenti nella scena sociale. Per esempio, la città di Rovereto, già nell'Ottocento, ha un bellissimo teatro e questi banchetti sono messi, sono affittati annualmente, sono spesso dati in concessione, sono dati pubblicati da numerosi storici. Per esempio, questi nomi non li ritroviamo tra quelli che vanno al teatro, che si interessano, per esempio, della socialità che si praticava in questa struttura allora. Questi nomi non li ritroviamo tra quelli che rivestono le cariche pubbliche, per esempio. Al massimo il Tranquillini lo abbiamo ritrovato come macellaio calmiere presso il Consiglio Civico, quindi è una specie di difende i propri interessi quello di un settore. Per il resto non abbiamo, ma non abbiamo affatto particolari ricerche, ci siamo limitati soltanto a queste prime cose. Rispondendo alla domanda, sì, Oettel, chiaramente viene da Castelruth, tra l'altro nella documentazione è affascinante vedere come cambia il nome, come prima viene scritto in maniera tedesca e poi nei vari documenti comincia a cambiare prima con O, E e poi fino ad arrivare agli anni Trenta che diventa Etel. Quindi subisce una malformazione, insomma viene adattato alla cultura italiana che era a Rovereto presente. E chiaramente in un documento troviamo proprio scritto che loro provengono e che sono arrivati da poco, ormai sono residenti a Rovereto. Quindi chiaramente si tratta di uno spostamento, tra l'altro nel 1824 nel censimento della proprietà extraurbana fatta dall'ufficio tecnico di allora. non troviamo questo nome, invece nel 1834 lo ritroviamo come proprietario di tutta una serie di appezzamenti limitrofi alla città, con alcuni tenimenti di case eccetera eccetera. Questo è un altro aspetto che vogliamo indagare, perché in questo momento mi limito a presentare i primi risultati, ma poi c'è quell'effetto scatola cinese che ti vuole fare indagare un sacco di cose, ma ti devi frenare perché se non ti perdi. Però sono cose che ci siamo poste anche noi in parte, che su alcuni casi abbiamo fatto dei piccoli sondaggi e abbiamo trovato delle risposte. Meditiamo quando, visto che da diversi mesi che insomma gli archivi ormai sono chiusi, stiamo tenendo calde queste domande perché vorremmo continuare a mettere mani su questa documentazione, soprattutto quella conservata presso la biblioteca. all'archivio storico del comune di Rovereto, vorremmo continuare a fare delle ricerche che dovrebbero portare sicuramente a delle ulteriori informazioni da inserire in questo contesto. Un telegrafico sulla criminalità? La documentazione ha fatto emergere anche dei problemi legati alla sicurezza del mercato. All'interno della documentazione che parlava del mercato no, soltanto quei cenni della sicurezza negli anni 70, per maggiore sicurezza, però all'interno dell'archivio è presente una copiosa documentazione che parla dei fatti gravi avvenuti in quei periodi, però legati alla piazza o avvenuti all'interno della piazza non ho riscontrato ancora nulla. Bisognerà insomma mettere in mano anche le carte giudiziarie. Katia Occhi, grazie dell'intervento, ti chiedo se puoi aggiungere qualcosa sulle reti mercantili di approvvigionamento provenienti dalla valpusteria e dalla Carinzia e su chi le gestiva. Questa è una delle estensioni che vogliamo, per esempio sono numerose le diatribe, è la documentazione tutta lì presente e conservata in cui le dogane degli altri centri fermano il numero di bovi, per esempio negli stessi anni il consiglio civico si muove per sbloccare il blocco di 18 bovi da macello che erano rimasti all'Avis e a chi allora mandano una medaglia d'oro come garanzia affinché potessero rilasciare questi 18 bovi perché scrivono chiaramente manca la carne a Rovereto, abbiamo bisogno di macellare, quindi per garanzia gli mandano una medaglia d'oro, chiamano come consulente un orefige della città di Rovereto, che porta questa medaglia come garanzia e la questione verrà discussa in un secondo momento con le autorità di l'Avis, però la cosa che ci ha colpito è intanto dateci subito i 18 bovi, poi vediamo, discutiamone tranquillamente, pagheremo tutto quello che c'è da pagare, però dovete subito darci perché abbiamo bisogno, estrema necessità di carne all'interno della città. e questa cosa mi colpiva perché hanno appena mediato 100 bovi da macello con la carinzia. Di questa documentazione noi abbiamo la traccia, era il documento che abbiamo prima mostrato per esempio, però al momento sulla rete commerciale non abbiamo particolari, quindi a Katia Occhi devo dire che è uno di quegli aspetti che vogliamo sicuramente approfondire, ci interessa molto, però al momento le indicazioni che ci vengono fornite sono soltanto queste. Grazie Gianni, qui hai il gota della storia economica e sociale tra Tirolo e Trentino, dopo Serena Luzzi e Katia Occhi anche Andrea Bonoldi che ha due domande. È un nome che conosco bene anch'io. Per te, la prima è relativa al gioco tra normativa locale e normativa provinciale o superiore, sarebbe interessante vedere, forse anche guardando le carte del TLA, penso dell'archivio Tirolo, quanto l'attività normativa superiore della seconda metà del Settecento abbia influenzato le condizioni locali. La seconda riguarda i subaffitti, c'erano delle specifiche condizioni per accedere all'affitto che spiegherebbero questa pratica? Rispondo innanzitutto a questa seconda domanda. Allora, la documentazione parla di una certa libertà, qualunque forestiero si reca all'interno della città può andare alla piazza dei viveri e contrattare l'affitto di un posto per un determinato tempo. L'importante è che nessuno si permettè, cioè non doveva essere praticata la vendita al dettaglio all'interno dello spazio urbano, cioè nessuno poteva posare a terra il proprio cesto di uova e contrattare con una signora che passava la vendita del bene, questo sarebbe stato praticamente multato, sono le documentazioni che lo vietano e dicono questa cosa, cioè sostanzialmente succede anche un fatto simpatico, abbiamo trovato un documento in cui uno si lamenta della multa perché aveva venduto dei capucci, dei cavoli capucci, camminando e quindi diceva ma a me non mi potete fare la multa, io camminavo e questo è un fatto simpaticissimo. Poi un altro aspetto è, ma sin dall'inizio, fino a metà del Settecento, almeno i documenti che ho cominciato a vedere io, la pratica della vendita fuori le mura. Infatti perché viene così intensificato all'inizio dell'Ottocento la normativa sul mercato? Perché molti commercianti effettuavano delle mediazioni, delle vendite prima del passaggio della dogana urbana che stava sul ponte sotto il castello della città di Rovereto. Lì c'era un pedaggio, tot galline, tot fiorini, il buo, insomma il passaggio, gli unici beni che erano gli uomini che non pagavano, pedaggio, ma anche i roveretani e la loro merce naturalmente. Quindi tutto ciò che entrava pagava, veniva pagato. Questo aspetto, da quello che ho potuto capire, è che molti concludevano dei negozi non all'interno della piazza di vivere, ma fuori, nelle campagne con dei prodotti che venivano da fuori. Quindi questa era una pratica ben conosciuta dalle autorità locali che la penalizzavano e la multavano in maniera significativa. Per quanto riguarda la prima domanda, purtroppo è una di quelle cose che più ci avviciniamo, per esempio tra i prossimi obiettivi noi abbiamo lo studio di Bolzano e di Bressanone, di quelle piazze delle erbe e lì secondo me uscirà da solo questo rapporto tra le autorità, tra virgolette superiori e rovereto. Secondo me questo già in parte emerge, guardando la documentazione a rovereto, però secondo me non si può ancora definire del tutto, perché guardare soltanto uno dei due aspetti non rende l'idea, anche se un'idea ce la siamo già fatta, però per completare l'immagine bisogna guardare tutti e due i lati di questo gioco delle parti. Quindi su questa cosa spero vivamente di rimandare la risposta, perché dovrebbe emergere da sola andando a guardare quei documenti che sono più verso l'aria tedesca, almeno per il periodo indagato. È un lavoro in fiere, quindi sicuramente ci sarà ancora da dire molto nel rapporto di sovranità su rovereto, che insomma non sappiamo ha una costituzione un po' diversa da altre realtà trentine. Umberto Cecchinato, il nostro nuovo acquisto presso Isig, dice grazie per l'intervento, un paio di quesiti. Hai trovato traccia di attività diverse da quelle del commercio, penso per esempio al gioco dei dadi, che nelle fiere medievali aveva appositi spazi dedicati, e due la competizione tra venditori è mai sfociata nel periodo che hai studiato in qualche caso di violenza? Sono tutti interessati alle risse, Gianni? Qualcuno si menava al mercato delle erbe? No, non sono. Nella documentazione, ma noi ci siamo rivolti soprattutto a questa documentazione che ha chiaro stampo amministrativo, non emergono particolari aspetti. Quella del gioco, come quella anche della musica, della socialità all'interno della piazza, è un aspetto che mi aspettavo in qualche modo di trovare. Richiamato in qualche cenno, per qualche aspetto, che ne so, sull'ordine pubblico, vengono rimossi i banchi sulla strada, magari mi aspettavo un qualche intervento dedicato alla piazza delle erbe in cui si vietava questo, questo o quest'altro. No, finora la documentazione indagata si è molto concentrata su questa pratica commerciale. Per quanto riguarda i fatti, non abbiamo incontrato, però ripeto, io ho, quando mi è stato possibile, dato un'occhiata ai regesti in cui si citano i fatti che sono, per quanto mi riguarda, sui prodotti commerciali erano le due pezze di formaggio e non mi sono state pagate, chiedo all'autorità di intervenire, eccetera, eccetera, oppure una transazione del maiale, ma spesso erano cose che non avvenivano in piazza. Io lì in quel contesto guardavo soprattutto per vedere se i nomi corrispondevano in modo da dare un'estensione anche extraurbana a questi soggetti che, insomma, li volevo portare in campagna, li volevo portare in quello che era il mercato. Siamo in un periodo in cui non esiste campagna senza città ed è la città che genera la campagna. Quindi volevo un pochettino creare questa unione, volevo trovare dei nomi che fossero oggetto di contesa per tirare fuori delle informazioni. Da quello che ho potuto vedere finora, ma ci siamo fermati a febbraio del 2020, poi come tutti sappiamo, insomma, le cose sono cambiate vertiginosamente. Ci siamo limitati a questo, però lo abbiamo tenuto in considerazione e ancora non abbiamo trovato particolari aspetti curiosi da presentare in questa sede. Grazie Gianni. Finché credo non metterete mano alla parte criminale delle fonti, sarà un po' dura vedere emergere con prepotenza questi aspetti. Sì, si tratta poi di incrociare i personaggi che sono protagonisti di queste vicende e vedere se quando si tratta di un fenomeno che sono mancati pagamenti oppure contese legati a qualche prodotto o a una serie di prodotti o a qualche pratica legata al commercio, vedere se incrociando i dati sono queste stesse persone, perché il database sui nomi è diventato grande, veramente. Ora nei casi di Tranquillini o Etel, queste persone qui insomma non c'è stato bisogno del database perché era lampante, sono gli assoluti protagonisti di un settore commerciale che va dalle diverse tipologie di carne alla privativa dell'uso dei macelli, sino ad arrivare alla produzione delle candele, alla vendita delle candele, al commercio degli animali. Insomma vorremmo ampliare non appena gli archivi saranno accessibili. Grazie. E mentre arrivano anche i ringraziamenti di chi ha fatto le domande, Cinzia di cui purtroppo ignoro il cognome perché non è scritto, dice grazie per l'interessante presentazione, sarebbe interessante approfondire le relazioni tra i soggetti citati e i tambosi che tra 7 e 800 costruiscono le loro fortune e Cinzia Lorandini. Ecco, adesso mi è più caro anche il perché di questa domanda. Sul commercio di Pellani, settore di un certo rilievo nel roveretano. I tambosi stessi avevano proprio in Piazza delle Erbe una delle loro sedi di attività. Sì, ne sono a conoscenza, nel senso che però non è una pratica commerciale legata alla piazza. Quindi per non cadere in quel gioco delle scatole cinesi che citavamo prima, noi ci siamo limitati a restare all'interno di questo mercato, a passeggiare tra i banchi, diciamolo con una… praticamente non siamo entrati nei settori adiacenti perché, a parte che sono stati bene indagati da numerosi storici, sia dagli storici economici che dagli storici dell'architettura, ma anche da numerosi bravi studiosi dell'Accademia. Su questo settore noi non abbiamo fatto particolari sondaggi perché pensavamo e pensiamo che entriamo in un gioco di scatole cinesi che ci porterebbe fuori dalla piazza. In questo contesto non posso dire che abbiamo fatto sondaggi nonostante siano anche dei nomi presenti come elevatari, però questo effettivamente è un input per cui ringrazio Cinzia Lorandini. Sicuramente proverò ad incrociare quei tambosi con i nostri tambosi presenti nella piazza, ce ne sono diversi come elevatari nei vari anni tra il 1811 e gli anni 40 dell'800. Però le pelli non potevano essere vendute nella piazza, questo volevo soltanto… Ecco Gianni, mancava proprio Cinzia Lorandini che ha fatto una domanda e adesso veramente abbiamo esaurito quasi del tutto i più grandi esperti in storia sociale e economica del Trentino. Lasciare la parola a Massimo Ross Poker, grazie a te Cinzia per credo qualche altra considerazione che voleva sottoporti. Io in realtà voglio solo ringraziarti per averci anche mostrato come si può fare una storia sociale basata appunto sull'uso conteso, contestato di alcuni spazi urbani. Alcune delle domande le ha esaurite soprattutto Umberto Cecchinato, che evidentemente abbiamo alcune deformazioni in comune. Per cui no, era interessante il fatto che appunto non compaiono questioni legate all'ordine pubblico, neppure in maniera diciamo tangenziale. Anch'io mi sarei aspettato e ti avrei chiesto appunto se c'erano alcune questioni legate anche all'uso politico magari di questi spazi, non solo economico e commerciale. Per cui no, volevo chiederti così a livello proprio di curiosità se puoi trarre o anche so che magari non è proprio l'oggetto, il focus della tua ricerca, qualche considerazione sui consumi alimentari in quest'epoca, se hai potuto notare dei cambiamenti o se c'è anche qualche curiosità che puoi condividere. Io sbirciavo appunto nella tua presentazione anche tipologia dei prodotti, finferli, carciofi, insomma così, per cui volevo portarti un po' sul frivolo in realtà a vedere se c'era qualcosa nell'ambito della storia del gusto dell'alimentazione. No, no, in realtà veramente anch'io ho indagato, nel senso che tra i materiali archivistici roveretani sono presenti numerosi ricettari, alcuni anche pubblicati, anche recentemente. nel mio tempo libero insomma uno si passa un po', insomma mi sono chiesto come questi prodotti venduti diventavano poi cibo concreto, alcuni ricettari me li sono andati a guardare ed effettivamente io ritrovo l'uso della mala carne, per esempio il fegato in alcune particolari ricette o quelle che noi oggi chiamiamo le frattaglie, cucinate con una ricchezza di spezie, naturalmente vorrei dire una cosa, sono dei ricettari che vengono da famiglie aristocratiche, quindi stiamo parlando di possibilità economiche e di un contesto sociale ben definito. Però è chiaro che la vendita di questi prodotti che noi oggi, per Dio, lo sono anche vendita di carne di seconda scelta, veniva preparata con un'astuzia anche con una cura dei particolari significativa e anche nelle tavole delle case aristocratiche. Quella idea, la carne fina nelle famiglie aristocratiche e la mala carne nei ceti un po' più di lavoratori, più popolari o della classe media, no non è proprio così, abbiamo ritrovato, ritroviamo anche l'agnello, ritroviamo tutta una serie di cose interessanti, però è facile andare a incrociare queste cose. I prodotti venduti, beh mi ha incuriosito la vendita delle angurie, dei meloni d'acqua come li chiamano nel documento, o la vendita delle rane accanto al gambero e al pesce, quindi sullo stesso banco, questi sono aspetti che hanno catturato la nostra attenzione, poi la quantità di qualità, diversi tipi di funghi, perché i carciofi accanto alle uova per esempio mi sono chiesto tante volte, e poi una cosa su cui le diverse tipologie è di burro, burro aromatizzato, burro nei vari contenitori che vanno dal rotolo a queste forme per me indefinite, perché ho cercato anche di indagare parlando con persone di chi si sono occupate di storia locale, ma sono dei termini che oggi sfuggono. Sicuramente possiamo immaginare che definivano anche delle quantità, non erano soltanto delle forme, quindi questo burro doveva essere venduto, perché poi c'era la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio, e questo poteva essere venduto a rotolo, a balla, e aveva un determinato prezzo, poteva essere venduto al dettaglio su un altro prezzo, poteva essere aromatizzato, poteva essere trattato, poteva essere naturale. Mi ha colpito questa particolare, soprattutto sul buttiro, come il documento lo chiama, come la documentazione lo definisce. No, 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 soltanto questo, in particolare poi in alcuni ricettari si parla proprio del buttir aromatizzato alle erbe, tutta una serie di cose che ritroviamo, insomma vi è una connessione effettivamente tra il banco giù in piazza e la cucina di un palazzo aristocratico, o meglio di quei ricettari che ho potuto consultare io.